Lotto 1207, Italia e Repubblica, bellotto di 39 corrispondenze del periodo, con alcune presenze sicuramente interessanti. Questo è un bustone per la spedizione dei documenti. Questo è il 10 lire. Questa con tre valori del Centro Lire della Democratica, spedita per Santiago del Cile. Questo è un bustone. Questa è un 10 lire, questo è un manoscritto. Questa 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 è un manoscritto.